Una nuova stagione teatrale ricca di appuntamenti da non perdere. San Marino mostra i muscoli e punta tutto sulla cultura, senza però timidezze. Paolo Rondelli, perché venire a Teatro a San Marino e cosa troveremo? Venire a Teatro a San Marino perché la stagione è estremamente ricca, diversificata, propone argomenti e testi e forme d'arte diverse, per cui ce n'è per tutti, dal balletto al comico, al drammatico, al high reading, al teatro per ragazzi, perché ci sono grandi nomi, Marescotti, Sergio Rubini, Serena Dandini, Lella Costa, Vittorio Sgarbi, Royal Ballet of Moscow, Alessandro Fullin e per dirne solo alcuni, Eva Robbins è già stata in scena, avremo le sorelle Marinetti in anteprima nazionale, solo per dirne alcuni, poi Lillo e Greg, quindi molti, molti artisti sul palco sanmarinese, quasi 30 spettacoli, quindi ce n'è per tutti. Qual è il filone culturale che vi contraddistingue? Il filone culturale che ci contraddistingue è quello di un teatro, mi senti il termine, intelligente, ovvero una stagione scelta per soddisfare i bisogni del pubblico, ma anche per seguire tematiche particolari, ad esempio quest'anno ci sono tematiche dell'attualità, una serie di spettacoli che parlano di migrazione, quindi di arrivo, accettazione o rifiuto dei migranti, per cui anche temi dell'attualità. e anche laddove il teatro è comico, comunque è un teatro che non è il teatro greve della battuta, ma è un teatro che parla dell'oggi, quindi una forma di cultura di arte molto legata alla società dell'oggi e ai cambiamenti sociali.